La conclusione di questa tappa con Michele Scarponi, raccontaci l'ultimo chilometro Ma guarda, non volevo fare niente, mi sento avanti con mio compagno Serra Nieme che quando ho visto che dietro i migliori della classifica erano un po' forse imbottigliati dietro il partito per sorprendere e guadagnare qualcosa, poi la volta che ho risaltato Stefano Pirazzi, grande protagonista del finale di questa tappa, raccontaci questa salita Ma è stata una salita pedalabile, si è andato su molto forte, ci l'ho messa tutta e purtroppo ancora una volta non è arrivato il risultato E all'ultimo chilometro come è successo? Hai sbandato un po' in curva Sì, purtroppo non ho visto la curva, sono arrivato troppo forte, ho dovuto ralentare l'andatura e poi non ho avuto la forza di ralentare l'andatura Ok, grazie